Poi giustamente no, pensate che le feste e tutte le mangiate natalizie siano finite. Invece no, perché finite quelle con i parenti, iniziano quelle con gli amici. Infatti ora mi sto preparando perché passo dei genitori di Fede a dargli il regalo. E poi stasera abbiamo una cena con i nostri amici che giochiamo a carte e un po' di dombolata insieme agli amici che non li abbiamo praticamente mai visti durante questo Natale. Voi adesso mi dite se ho un ragazzo normale. No, non sei normale. Niente, stacco te poi. Comunque posso dire questo best fonda tinta ever per l'acne, si chiama Anti Blemish Solution, però comunque vi metto il link nelle storie di Instagram perché raga è pazzesco. Non appesantisce la pelle, copre, d'addio, non unge, veramente il top per l'acne. Ah ma guarda che belle ciglia. Cioè non noti la differenza abissale tra questa e questa? No perché una è sotto la luce e una no. Dai guarda che belle che sono. E questo è il mio outfit super semplice, tata black, capelliccia, Dior e Yag perché non vivo ormai senza Yag. Ti piace il tuo outfit? Sì è molto carino il tuo outfit. Non ti piace? Sì perché mi dovrebbe piacere? Vabbè io voglio mostrare mamma. Ciao. Ragazzi è il nuovo Get Ready With Me. Però prima scusate devo un attimo flexare il volume dei miei capelli. Cioè guardate quanto sono soli. Adoro. Comunque mi devo preparare perché sto andando al centro commerciale con Fede che devo cambiare dei regali e poi stasera vado a cena con la mia famiglia e la famiglia delle mie migliori amiche quindi mi preparo adesso e poi non mi cambio più. Avevo in mente di ricreare questo look che ho utilizzato in montagna perché secondo me è stra figo e con i capelli mossi ci sta da Dio. Quindi prendiamo questo abitino qui che è di H&M. Ho preso una M ma forse tornando in dietro prenderei una S perché è veste molto largo. Ok ammetto che non è proprio il massimo mettersi questi abiti fascianti post feste natalizie anche perché dopo tutto quello che mi sono mangiata... No sti cavolo di Natale che era una volta l'anno. Ed è stra normale se in questi giorni ci sentiamo un po' più gonfi ma sarebbe stato strano il contrario. Poi ci volevo abbinare gli hug perché questo qui essendo un po' besolino secondo me sta da Dio con gli hug di questo colore qui. Magari così lo vedete meglio, questi calzini neri sono orribili ma vi assicuro che spariranno dentro gli hug. Poi si vedono. Ok sparì. Poi ci metto la pelliccia bianca, questa qui l'ho comprata tipo 3-4 anni fa da Zara, mai indossata. Quest'anno l'ho riscoperta e non riesco più a vivere senza questa pelliccia. Ragazzi mio fratello mi ha appena abbucciato gli hug e dice che sono sciottate. Sono guardabili. Ma io adesso che mi metto? Ci ho provato queste. A me piacciono. Più queste o più gli hug? Quelle mi piacciono però per me se mi incomoda con gli hug Fede perché se devi camminare al centro commerciale a me non ti conviene. Dopodiché profumo questo qui di Miss Dior. Buonissimo raga. Poi profumo per capelli. Questo qui è di Mulac. La Dior. E sono pronta. Un bacio.